I fondi diretti da Bruxelles e i fondi diretti della comunità attraverso i progetti trasfrontalieri sono zero. Arrivati negli ultimi anni a Trieste, zero euro rispetto a progetti che qualche volta non sono stati neppure presentati. Attacco ad alzo zero del senatore russo all'amministrazione Cosolini anche sul tema delicato dei fondi europei, i denari dell'Europa che sono il fulcro dell'idea della città metropolitana promossa dal lettiano di ferro. Faccio solo un esempio, il comune di Treviso, più piccolo del nostro e meno strategico dal punto di vista dei rapporti internazionali, ha tre volte i soldi pro capite in fondi europei. 3.000 euro per ciascun abitante di Treviso, poco più di 1.000 per Trieste. Poi una nuova sottolineatura della guida friulanista in regione in settori chiave come quello appunto dei fondi europei, ma anche una nuova stoccata con nel mirino un assessore di Cosolini, Roberto Treu. E ancora posso ricordare che il presidente del patto europeo per il cambio demografico è Furio Onsel, in una città come Trieste che avrebbe tutte le carte in regola, i professionisti e le competenze per occuparsi invece di invecchiamento attivo. La mia proposta è quella di dare centralità nella prossima amministrazione a un ufficio che serva a tutte le strutture e che lavori a tempo pieno per prendere i soldi che in Europa ci sono. Mi piacerebbe capire perché in questi anni non si è fatto e mi dispiace che l'assessore Treu, assessore ai fondi europei, decisamente non sia la persona più adatta per fare questo lavoro.